Alla dunque è sabato notte tra il 14 e il 15 giugno 2008 Sto con una persona a me molto cara di cui però non posso vivere a noi perché non vuole essere pubblicizzata Ci troviamo al pub Van Dyck di Viterbo e dopo andremo in un altro locale a